Ciao e benvenuto su Fast & Fini, in questo video vi avrei mostrati due differenti esercizi che puoi fare con la pressa. La pressa è assolutamente un attrezzo che vado a consigliarti soprattutto nel caso in cui tu avresti dei problemi alla schiena. La schiena qui rimane isolata e protetta, appoggiata sempre allo schienale, quindi è assolutamente perfetto. E' l'esercizio numero uno, è l'esercizio poi classico, quindi andiamo a posizionare la schiena assolutamente attaccata allo schienale. I piedi devono essere paralleli al ginocchio, questo è assolutamente importante per lavorare, uno per lavorare bene, secondo per proteggere quelle che sono le nostre ginocchia. E l'olore è questo, quindi scendiamo, inspiriamo quando scendiamo e respiriamo, inspiriamo e respiriamo, inspiriamo e respiriamo. E questo è poi l'esercizio poi classico. Il secondo esercizio che ti vado a consigliare, che è perfetto per noi velocisti, è fare la pressa con una gamba. Quindi andiamo a mettere una gamba a riposo, posizioniamo sempre la nostra schiena assolutamente schienale e cominciamo a spingere con una gamba. Il ginocchio, mi raccomando, sempre parallelo al piede. L'esercizio è questo, tu riscendi, inspiri e poi quando spingi cerca di spingere anche bene con il bacino. Quindi quando è steso la gamba, poi spingi anche il bacino, in questo modo, uno e spingo di bacino, due e spingo di bacino. Come vedi qua, il bacino si alza e vado a spingere molto bene il bacino. Questo esercizio è molto importante, il primis perché andiamo a allenare quelli che sono bene, che sono i glutei e i quadricicli. Il secondo perché ci abituiamo a spingere bene raddrizzando la gamba e ci abituiamo a spingere con il bacino. Quindi soprattutto nel momento in cui stai imparando a spingere anche il bacino nell'azione di corsa, questo esercizio ti va a aiutare moltissimo. Quindi io ti auguro buon allenamento e ci vediamo al prossimo video. Ciao!